Vi do il benvenuto alla Unicorn Academy. Complimenti, avete superato il primo step per diventare Unicorn Riders. Wow, è davvero superfantastico. Sofia, credo che per legarsi a un unicorno dovresti comprendere. Facciamo vedere di cosa siamo capaci. È come farsi un nuovo amico. L'acqua magica ti fa molto bene. È molto meglio che nei libri. Quindi questo posto non è un meraviglioso innocuo paradiso. Quaggiù ci sono Goblin, enormi mostri d'ombra, Ravenzella. Questa proprio non ce l'aspettavamo. Non potrebbe andare peggio di così. Attenzione! Mi sbagliavo. Per affrontare il pericolo... Insieme! Dobbiamo agire da noi! Oggi stanno! Grazie a tutti.